Ecco, siamo alla stazione dei bus di Ekamai, dove siamo appena arrivati con il bus proveniente da Hwayin. Ecco, qui di fronte abbiamo il BTS che poi prenderemo per andare nella zona dove ho l'albergo, che è la fermata di Nanà. Ora faremo un video di questa stazione dei bus. Ecco, qui ci sono i bus che partono per parecchi punti della Thailandia e anche altre zone esterne. Ecco, qua ci sono i bus per Pattaya. Qua abbiamo i bus per Raiong e Pattaya. Ecco, qua abbiamo quel Cosamet, Banfe Cosamet. Questo è per prendere i batteri per cosa mette. Questa è la stazione. Ciampi, Ciaburi, questo è il bus che va a Hwayin e che abbiamo preso ritornando qua. Ecco, ora, qui per Trat, Trat Ko Chang. Ecco, ora ci trasferiamo al BTS. Quindi usciamo dalla stazione e andiamo verso il BTS. la linea del BTS è proprio qui in alto. Ecco, e ora con queste immagini della stazione di Bangkok, dei bus di Ekamai, che vediamo qui di fronte, terminiamo questo video.